Le serve qualcosa? Sì, come si chiama lei? Io mi chiamo Travis Interessante, allora cosa posso fare? Può dirmi il suo nome, come si chiama? Non faccia lo spiritoso Come si chiama non lo può dire, io non ho mica intenzione di... Guardi che chiamo il direttore Ma perché vuol chiamare il direttore? Io lo sono chiesto... Tony! Va bene, va bene, ho capito Mi dà quei... quei cioccoli, quelli lì Ah, e non ha mica dei Giugiu Quelli sono... sono migliori, ce l'ha?